Bella per voi, tra mezz'oretta, tra le 3.30, le 3.40 e i ritardi miei edikaif inclusi siamo in live entrambi sul canale comune mio fratello è uno youtubers di cui i link li trovate qua sopra, qua sotto, in descrizione dentro l'accesso di casa vostra e un po' dappertutto io vi salustro, questo video non è monetizzato perché mi fa schifo fare i video per dire che ci sono i live Bella per voi!